Ansfor, O'Binna! Sorpresa dal sinistra incrociare di O'Binna. Inter in vantaggio, meritatamente, contro Manchester City. Risulta di così dell'Inter. Bella azione, palla a terra, panno e fa la sponda. Cambiasso allarga per O'Binna. Pensava a un cross Joe Hart, andiamo meglio da qui. Caccia in porto, O'Binna. Il pallone va velocissimo nell'angolino, non ci arriva Hart. 1-0. Si è fatto sorprendere qui, troppo Hart. Era defilato, O'Binna.